Un milione di euro di risarcimento per la morte della figlia Martina. Questa la richiesta avanzata in sede civile da Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori della giovane studentessa Ligure che perse la vita all'alba del 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel di Palma di Mallorca. Il procedimento penale si era concluso con la condanna a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo a due retini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che oggi stanno scontando la pena in regime di semilibertà e prosegue anche il processo civile. Nell'ultima udienza a cartolare le parti hanno inviato gli atti che poi il giudice Fabrizio Pieschi valuterà. I genitori di Martina Rossi hanno presentato una perizia a medico legale per illustrare le conseguenze di quella terribile tragedia sulle loro vite. I due imputati invece hanno chiesto che venga eseguita una nuova perizia sulle modalità di caduta di Martina, citando poi in giudizio anche la società che gestisce l'hotel Santana. Secondo i difensori, i balconi dell'albergo non sarebbero stati a norma, elemento che potrebbe aver influito sulla dinamica della tragedia. La società si è dichiarata estranea ai fatti in quanto avrebbe iniziato a gestire la struttura ricettiva dal novembre 2013, ovvero due anni dopo la tragedia, chiedendo di fatto così di essere stromessa dal procedimento. Adesso la parola passa al giudice, che avrà 30 giorni per decidere se passare alla fase istruttoria del procedimento. Grazie. 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 Grazie.